partete lungo la corda capitan chic in vantaggio con decisione guadagna circa due tre lunghezze nei confronti di terre brune quindi ababin a largo lungo la corda torna sul rientro e in coda shining diamond deciso capitan chic lungo la corda sempre leader tallonato da terre brune più indietro lungo la corda torna sul rientro quindi shining diamond ed ababin a largo di tutti siamo a 250 dal palo capitan chic sempre in vantaggio trova il barco ora torna sul rientro che si propone poi a largo ababin e shine diamond nel tratto finale capitan chic il leggero vantaggio nei confronti di ababin che ci prova ma capitan chic si difende da ababin al terzo posto torna sul rientro su shining diamond rivediamo le immagini capitan chic cristian di napoli da un capo all'altro nel tratto finale ha difeso bene la posizione dal tentativo esterno di ababin che ha concluso al posto d'onore davanti a torna a sul rientro quindi 2 1 5 il probabile ufficioso arrivo della quinta corsa di napoli grazie a tutti 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 grazie a tutti